Stefano Amadio è un nuovo giocatore del Latina, il centrocampista romano dunque dopo lungo inseguimento raggiunge il suo ex allenatore Vincenzo Vivarini in Errazzurro. Accordo, biennale e ufficialità che arriverà nelle prossime ore. Come detto il corteggiamento è andato a buon fine, ieri i primi contatti tra il presidente del Teramo Luciano Campitelli e il direttore sportivo dei Pontini Pietro Leonardi. Se non è un ultimatum per chiudere poco ci manca, anche considerando che domani sera i biancorossi saranno presentati al pubblico in Piazza Martiri e il ragionamento del numero uno di Via Oberdan al dirigente neroazzurro è stato chiaro, chi sale su quel palco gioca il prossimo campionato con il Teramo. Nel pomeriggio contatti che sono proseguiti sulla falsa riga delle scorse settimane, stamattina l'accelerazione con Latina che avrà Amadio nel suo nuovo centrocampo e con la possibilità di lasciare libero Moretti di trovarsi un'altra sistemazione. Non sarà un trasferimento gratis come da giorni si continuava a ripetere, nel senso che si scioglierà il vincolo contrattuale tra Amadio e il Teramo ma i biancorossi risparmieranno su alcuni emolumenti dovuti al giocatore. Dunque il risparmio in cassa sarà di fatto una sorta di quota per il trasferimento dall'Abruzzo al Lazio con la possibilità per Amadio di giocarsi la chance per la Serie B. Per sostituirlo, magari non proprio a livello tattico ma essenzialmente a livello numerico, il nome scelto dal Teramo è quello di Gaetano Bastola. Pare che qualche giorno fa si sia sondata la disponibilità del centrocampista classe 78 che ha dato l'ok. Ok anche per le condizioni fisiche come assicurato anche da Luca Di Matteo che ha garantito l'ottimo stato di salute dell'ex compagno di squadra, la Virtus Lanciano. Dunque a questo punto sembrerebbe da convincere solo l'Aberto Zauli sulla bontà dell'operazione ma anche il presidente Campitelli ha messo Vastola come iniziato principale a vestire la maglia del Teramo. Con Speranza in difesa, Vastola Mediana e Sansovini in avanti, i biancorossi dunque punteranno sull'esperienza per affrontare un campionato complicato e che parte sabato a Lumezzane dove certamente non ci sarà Stefano Maddio.